Buongiorno dalla redazione del Tg della mobilità. Gli aggiornamenti sul trasporto pubblico in apertura di questa seconda edizione del mattino. Temporanea chiusura al traffico in piazza Epiro tra via Quitania e via Mauritania per lavori di potatura degli alberi. Le linee bus 218 e 665 sono deviate in arrivo da San Giovanni e percorrono via Britannia. Al momento le due linee non effettuano 5 fermate e ancora proseguono i lavori stradali sul litorale in via Torcegno con riflessi sulla 066 bus della linea che raggiunge la stazione Colombo del Romalido deviano su via Ponte Gardena senza effettuare la fermata Torcegno-Croviana. E proprio nel decimo municipio sono state modificate le linee bus 04 barrato 012 e 063 per velocizzare il collegamento con la stazione di Acilia. Nel dettaglio la 04 barrata percorre via Ostiense senza addentrarsi nel quartiere di Dragoncello dove invece restano le linee 012 e 063. La prima devia in via Paschini, la 063 percorre via Madre-Colomba-Gabriele e via Patrasso. Per il momento è tutto, un saluto dal Tg della Mobilità.